ben ritrovati amici di nerd station io sono sempre riccardo dosso una nuova puntata e in questa torniamo a parlare di fumetti questa volta di fumetti nostrani dopo aver parlato delle produzioni americane marvel parliamo della bonelli e dei bonelli kids la bonelli è quella casa editrice italiana che detiene praticamente il primato del fumetto italiano quando si parla di fumetto italiano si parla di bonelli di un dog tex zagor mister no martin mister e che più ne ha più ne metta sempre in prima fila anche con l'innovazione nel fumetto italiano basti pensare ai nuovi titoli orfani e drago nero o morgan lost ebbene i bonelli kids segnano ancora una volta un obiettivo che la bonelli vuole raggiungere ovvero coniugare unire le diverse generazioni perché si è pensato che i più piccoli potessero non essere affezionati al fumetto le nuove generazioni quelle 2.0 i nativi digitali come si dice quei bambini che hanno pochi anni sono molto giovani possiamo dire dai 6 ai 10 anni o anche meno e che possono avvicinarsi a lettura grazie ai bonelli kids che cos'è questo progetto il progetto dei bonelli kids è una serie di strisce che si trovano solamente sul web quindi fruibili solo in formato digitale per ora visto che si tratta di un esperimento in cui ci sono una serie di piccoli bambini che giocano a vestirsi come gli eroi bonelli quindi ci sono piccoli dampier piccoli zagor piccoli mister no stranamente non ci sono bambini vestiti da dylan dog o da tex che sono comunque i personaggi più famosi e ci sono personaggi comprimati come angie che in martin mistero è un personaggio che si trova soltanto una volta all'anno nella collana fuori serie speciali martin mistero è un personaggio che non ha nulla a che fare coi bambini perché praticamente angie è una bionda svampita nel fumetto che finisce sempre per rimanere nuda lei fa la spogliarellista fa comunque la showgirl e quindi questa scelta si è rivelata assai molto bizzarra quanto meno la sua la sua controparte femminile essendo una bambina non fa nulla di tutto ciò semplicemente è una bionda un po' svampita anche la bambina che interpreta angie c'è da chiedersi come si immaginano questo passaggio di un visto che tutti gli altri bambini si vestono da dei propri eroi bonelli bisogna pensare a come questa bambina abbia pensato di vestire i panni di una bionda svampita che finisce sempre sei minuti negli speciali martin mistero comunque singolarità da parte e qualche bug nella narrazione si può dire che queste piccole strisce sono di un umorismo molto semplice che ricorda un po le barzellette sul topolino qualche momento carino c'è come per esempio mister no che gioca sul suo cognome ovvero sul suo soprannome sul suo nickname mister no a cui trovano sempre delle spiegazioni abbastanza simpatiche come per esempio che tutte le ragazze gli dicano no o che pure semplicemente lui risponda sempre no comunque sono del piccolo strisce sul web che se avranno successo poi potrebbero anche sfociare in un progetto editoriale cartaceo al momento stanno avendo una buona diffusione perché comunque sul web è facile anche creare uno strumento virale un progetto virale ed è condiviso su molte pagine di facebook soprattutto a me sinceramente non stimola in maniera particolare ma lo scopo non è colpire me è colpire i bambini e far sì che loro diventino dei lettori futuri della bonelli c'è da domandarsi come e se questo obiettivo verrà raggiunto e come lo capiranno la bonelli che questo obiettivo è stato raggiunto quando vedranno un incremento delle vendite quando capiranno di aver affezionato dei futuri lettori chissà se si sono posti queste domande che io mi pongo lo stile è abbastanza cartunesco e vicino anche ai manga come espressione facciale dei piccoli protagonisti se volete leggere qualche storia ai bonelli kids cercateli semplicemente su facebook bonelli kids io vi consiglio di darci un'occhiata alcune strisce sono carine e simpatiche vi strapperanno un sorriso e avrete qualcosa a condividere sul vostro muro di facebook sicuramente farete cosa credita anche ai vostri amici che potranno iniziare la giornata anche loro con una risata anche se un po infantile un progetto carino e sicuramente qualcosa di diverso che rompe il muro della normalità in casa bonelli che è l'inizio tra l'altro di un primo progetto rivolto all'infanzia poiché già da un paio di anni è stato annunciato la serie young di drago nero che sarà però da quanto ricordo una serie proprio cartacea rivolta ai bambini con i piccoli con i piccoli protagonisti di drago nero appunto da bambini è l'inizio di una passaggio di testimone dei lettori dai più piccoli dai più grandi ai più piccoli la bonelli guarda decisamente al futuro e noi guardiamo il futuro dicendovi appuntamento la prossima volta con la station